Non lo so, non lo so, avevano appena comprato i due negozi qua dietro, appena, anzi quando li hanno comprato, hanno comprato due negozi, sono da soli. Quali? Quali negozi? Per cosa? Questi qui, dove sono? Per cosa? Per la di birra cosa? Eh? Per fare cose. Niente, li hanno comprati loro, li vendevano, li hanno lasciati dentro, anzi diceva lì, quello della ricevitoria, non sono neanche venuti a dirmi, li abbiamo comprato, niente, però più sa quelle persone che non parlano.